Cominciamo tutti col destro, tutti col destro, tutto col destro. Siamo sempre assieme, pronto, via sinistro, finito, giù bene, vi lascio più bene la gamba, via. Torniamo, entro col destro e entro col sinistro, una volta col destro, una volta col sinistro, via. Buono, laterale, destro e sinistro, destro e sinistro, tutto laterale, via. A fianco, pronto, via. Ritmo, ritmo così, bravi. Torniamo ancora laterale, Olli, è messo a gamba tesa, rimuovo l'altro lato, però adesso passaggio a gamba tesa, sopra a gamba tesa, via. Destro e sinistro, destro e sinistro, trovate un ritmo. Travi, su. Siamo l'altro lato ancora, via. L'ultimi due poi facciamo un break. Torniamo frontale, solo destro, passaggio a gamba in allungamento. Sono desto, via. laterale solo destro, allunga, allunga, allungare, sul ginocchio e allunga, sul ginocchio e lunga, sì, appena è libero, via col sinistro, e va, quello che hai bisogno, un minuto e poi ripartiamo, non basta, telecamera, Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Andiamo, andiamo ragazzi, mettiamo sempre un po' la frequenza di lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Risposto e vado. Cominciamo a combinare un po' i movimenti. Fallo, fallo, ginocchia alte, una schifata, ginocchia alte, spostamento e faccio l'uscita. Dall'altra parte appena libero, ancora, risposto e aumenta un po' l'uscita. E via. Adesso lavoriamo sugli skip laterali e torniamo da questa parte, skip laterale, vado e via. e vado, skip laterale, passaggio ed esco, skip laterale, passaggio ed esco, aumentando leggermente. Grazie. Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.